Girls speech hallelujah Cause I'm talking phone call give it to ya Cause I'm talking phone call give it to ya Cause I'm talking phone call give it to ya But it ain't all been in the spa Grande Mr. Bones Bravo! Bella energia Mi è piaciuto un sacco Star beggiato da Mr. Bones Cioè, è incredibile Mr. Bones Quando c'è la sua puntata Il suo team chiede di beggiare e non beggia Quando non ci sono Chiara ha fatto la cosa giusta Hanno avuto una bella energia Tra l'altro è il gruppo secondo me migliore che ho visto finora Quindi why not? Assolutamente contentissimo della scelta